A Vittoria la polizia di Stato ha tratto in arresto l'uomo che aveva rapinato una donna di 74 anni scippandole con violenza la borsa che teneva a tracolla. La vittima, mentre usciva di casa, era stata avvicinata da un uomo che con un gesto fulminio l'aveva afferrata strattonandole e tirandole con forza la borsa. Dopo il responsabile scappava con l'area furtiva di leguandosi per le vie cittadine. La donna si era subito rivolta ai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Vittoria i quali con professionalità hanno rassicurato la signora, ancora molto agitate, ed hanno assunto le informazioni salienti per ricostruire i fatti e giungere all'individuazione dell'autore del reato. Attraverso le dichiarazioni fornite dalla visione delle immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza ubicati nei pressi del luogo dove si era consumata la rapina, i poliziotti in brevissimo tempo sono riusciti a identificare l'autore del reato in un pregiudicato noto alle forze dell'ordine socialmente pericoloso già sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di polizia di Stato. L'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa ha consentito anche di accertare che l'uomo si era allontanato dalla propria abitazione per alcuni giorni senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria e in violazione alle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione a cui era sottoposto. Dopo alcuni giorni di ricerche, poiché il rapinatore nel frattempo si era reso irreperibile, è stato rintracciato dai poliziotti del commissario di polizia di Vittoria e tratti in arresto per i reati di rapina aggravata e violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere premessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondaria di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.